Buongiorno, sono Lorenzo Campodipietra, responsabile Customer Carrier per le soluzioni alle flotte in continental video. Oggi ho il piacere di presentarvi la nuova soluzione video per localizzare gli asset aziendali, come semirimorchi, casse mobili, container e equipaggiamenti speciali. Questi soggetti hanno tutto un valore economico importante e sono la chiave fondamentale da parte dell'azienda per svolgere le proprie attività. Pertanto la richiesta dei fleet manager è quella di conoscere l'ultima posizione dell'asset, così da ottimizzare il prelievo ed avere anche una visione globale di dove siano collocati. L'idea è quindi quella di sfruttare l'accoppiamento tra dispositivi di telematica video, che è già installato a bordo dei propri veicoli, e un tag Bluetooth a bordo dell'asset. Questo, come potete vedere nell'esempio, ha dimensioni ridotte e poco più grandi una cialda di caffè. La combinazione dà visibilità dei movimenti degli asset direttamente sul portale video. Tale soluzione supera pertanto il limite classico di un dispositivo con batteria interna che necessita di una continua manutenzione. I pregi pertanto sono la facilità di installazione, investimenti esigui, minima manutenzione ed è il tutto semplicemente visibile attraverso il portale video. Vi aspettiamo per approfondire la soluzione e seguiteci sui nostri canali social.